Il Cavabasket, dopo la pesante sconfitta subita lo scorso turno contro il Torre Annunziata per 70-61, domenica 8 novembre torna di nuovo all'Eagle Nest di San Pietro e chiama a raccolta i suoi supporters più fedeli. I cestisti avranno bisogno di tutto il tifo e il calore dei propri tifosi per ritornare a fare bene in campo. Il Cavabasket nel prossimo turno, infatti, riceverà tra le mura di casa l'Atletic System San Giorgio, reduce da una bella vittoria contro l'Olimpia Capri per 75-69. Per i guerrieri di coach Bisogno, questa sarà una sfida davvero avvincente di quelle da batticuore fino all'ultimo quarto. Fischio d'inizio alle ore 18.15. Vietato mancare. Go Eagles! Go Fighters!